Quanta voglia di ricominciare e di ricominciare con la Lube Civitanova? Tanta, abbiamo già iniziato da un po', ovviamente a passi un po' stretti, aspettando le nuove normative, le nuove novità, con tanta voglia di mettermi alla prova in un nuovo gioco, una nuova squadra, una nuova società, una nuova città e poi so che ci sono tante aspettative, spero di essere all'altezza, di mettere tutto sopra il tavolo e portare anche a vincere a questa squadra. Un campione in una squadra di campioni? Beh, qua penso che il meno campione sono io, quindi mi sento onorato, orgoglioso e sono molto contento. Argentino che gioca con i cubani, com'è? Gli spogliatori si parla più spagnolo che italiano, quindi questa già è una difficoltà per gli allenatori, ma è un bel gruppo, siamo sempre in sintonia, siamo sempre insieme, quindi questo è bello già per iniziare, è già qualcosa che non si dà spesso nelle squadre nuove. Una stagione che si presenta un'incognita, perché non si sa se si giocherà a porte chiuse o con un po' di pubblico, come te lo aspetti dopo il lockdown? Speriamo di ricominciare, ovviamente che si può iniziare con il pubblico, anche se è poco, è sempre qualcosa di dimostrare che siamo un po' vivi, tra virgolette, lo sport. Poi, mano a mano che migliora la situazione, mi auguro che tutti torni alla normalità entro questa fine dell'anno, speriamo di vedere la pallavolo.